Incarnazione perfetta del bodeleriano, pittore della vita moderna, Henry de Toulouse-Lautrec ci propone il superamento dell'estetica impressionista e l'affermazione di una concezione dell'arte profondamente aderente alla realtà. Se le sue ambientazioni sono a prima vista del tutto simili a quelle dei pittori impressionisti, in particolare ai gioiosi scenari di Renoir, a una lettura più approfondita esse rivelano una visione del mondo radicalmente diversa. Non è più la spensieratezza della gita dominicale o della parentesi mondana essere immortalata da Lautrec, bensì l'ambiguità della condizione moderna. Banchieri, prostitute, cantanti e ballerine sono i personaggi che popolano i suoi quadri e che lui ritrae come fantasmatiche comparse della commedia umana. Alla classica concezione del bello, il pittore sostituisce una definizione dell'arte capace di trasfigurare il volto umano in una maschera caricaturale. Anche la sua tecnica pittorica porta a espressione gli ideali estetici della modernità, influenzata dalla stilizzazione dell'arte giapponese e dall'appiattimento percettivo operato dalla fotografia. Louise Weber, soprannominata la Goulou, la Ghiottona, è raffigurata al Moulin Rouge, un cabaret di Montmartre frequentato dal Demimonde in cui si esibiva ballando. L'artista del Cancan è affiancata dalla sorella alla sua destra e alla sua sinistra vediamo il suo amante parigino. Toulouse-Lautrec ha fatto molti dipinti della Weber, una vera mattatrice dello spettacolo conosciuta per il suo appetito. La donna con i capelli rossi, un nastrino nero al collo e un abito scollato fino a lasciare intravedere il seno è colta in primo piano e il tutto ci ricorda quasi un'istantanea. In tutta la sua opera quindi Toulouse ha ritratto individui non convenzionali in modo audace, franco e simpatico. Lo spazio poco profondo, il taglio audace, i profili pesanti e le forme appiattite riflettono in effetti lo stile delle xilografie giapponesi e il lavoro di Edgar Degas che Toulouse-Lautrec ammirava molto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!